Prego. Sono pronto. Benvenuti a Propaganda Shop. Oggi vi proporrò un oggetto multiuso fantastico, sviluppato dall'Università Americana del Mississippi di Mimo Parisi, e già qui capite che si parla di roba davvero grossa, portato in esclusiva per l'Italia dal nostro Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, il Privilege Cutter, il Taglia Privilegi. E come vi ho detto, un oggetto incredibile. In grado di risolvere qualsiasi tipo di problema. Avete presente una bacchetta magica? Ma non la bacchetta magica della fata turchina. Ecco a voi il Privilege Cutter del Mago Maio! Ecco l'oggetto del desiderio. Alcuni esempi. Ti si attacca la bistecca alla griglia? Prova a girarla con il Privilege Cutter. Vedrai, non ti si attacca più. E nello stesso momento, a tutte le auto blood della Commissione Bilancio della Camera, gli sparisce l'airbag, lato passeggero, al primo tamponamento, pam! Loro lasceranno i denti sul cruscotto, ma la tua carne sarà cotta a puntino e per niente sto facciosa. Ti chiederai come è possibile, ci chiederai cosa c'entra la carne con i denti sul cruscotto, niente. Ma questo è il miracolo del Privilege Cutter! Tu togli il Privilege a un parlamentare e ti si risolve un problema che non c'entra un cazzo. Allora, un altro esempio. Un altro esempio. Aspettate. Respira, respira, tranquillo. Ad esempio, problemi di umidità. Poi questa la tagliamo, la montiamo, non ti preoccupare. Vai, vai, che si andrà bene. Problemi di umidità, problemi di umidità che ci vediamo un po' tutti, infiltrazioni del tetto, ti hanno fatto un preventivo di 8 mila euro per la guaina, niente paura. Prendi il tuo Privilege Cutter, puntalo verso la macchia di muffa che c'era su sul muro, clicca e in quel preciso istante a cinque sottosegretari gli sparirà tutto il pacchetto scaicaccio. Cinema Famiglia! Bellissimo. Quello che è giusto è giusto. Era ora. Vi ricordate quella con tutte le partite del grande Chievo-Verona di Gigi Lenneri? Ecco, si vedranno quella. Ora tu ti chiederai che c'entra la muffa sul muro con Sky. Niente. Niente. Questo è il miracolo del taglia privilegi. Tu tagli un privilegio a un parlamentare e smette di pioverti in salotto. È bello, no? Dai, vi ho convinto. È bello, è bello. Volete il Privilege Cutter ad un prezzo speciale? Per le prime cinquanta telefonate? Benissimo! No, mi dispiace. È impossibile. Purtroppo ce n'è uno solo. Questo è un fake. Quello vero ce l'ha solo il ministro Magomaio. Perché è un privilegio di un ministro avere il Privilege Cutter? Mi sembra una presa per il culo? Lo so, ci sono rimasto male pure io, però è così. Quindi vi saluto e questo è un argomento. Un grandissimo applauso a Giorgio Mastrotti!